Questa volta la battaglia degli SCP si svolgerà al mio interno. Vieni a me, soldato. Eccoci qua, allora, praticamente questo pianeta, da quel che ho capito, si deve svolgere la battaglia all'interno. Che cosa mi ha dato? Ok, allora, mi ha dato un bel po' di cose buone, come per esempio da mangiare, anche perché mi stava servendo. Però sono un piccone di legno, ma che schifo. Io qua ho i diamanti della telekilde la scorsa volta. Chissà come mai non me li ha tolti questa volta. Vabbè, allora, io direi di iniziare a prendere un po' di son, perché serve. Quindi, oh mio Dio, oh mio Dio, no, 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 no. Era questo che voleva dire il pianeta. All'interno, in questo senso, ma stai scherzando? E io come faccio? Ok, penso, io ho un piano adesso. Dobbiamo andare da questa parte, ok? E cercare di, in un qualche modo, sfruttare questa parte qua per scendere al suo interno. Perché sennò poi dopo il pianeta si arrabbia. Adesso però prendo, adesso però mi crafto una crafting table, poi dopo mi crafto anche un piccone in pietra. Così almeno posso prendere i diamanti e le cose, nel senso, così mi crafto il piccone in ferro. Dopo che avrò craftato la fornace. Cioè, capito, ci dobbiamo fare tutte queste cose qua che sono indispensabili prima di affrontare il coso. Ah no, però aspettate, io mi sono appena accorto di una cosa. Io ho l'armatura in diamante, in diamante rosso. Questo vuol dire che non devo stare qua a prendere tutte le cose. Però è sempre meglio, diciamo, prepararci al meglio, magari, queste cose. Non ne ho idea. Comunque adesso dobbiamo scendere in un qualche modo, anche se non so proprio come scendere. Mannaggia, come caspita si fa a scendere da questa parte? Ma stiamo scherzando? Cioè, come faccio a scendere, scusate? È tutto diamante, praticamente. Allora, qua se non siamo attenti moriamo, quindi dobbiamo stare attentissimi. Perché questo pianeta poi è pazzo, capite? E poi io sto distruggendo tutto, ma va bene, secondo me, va bene. Vabbè, 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 ok, va bene, va bene. Però ho appena detto che dobbiamo stare attenti. Oh mio Dio, ma questo posto è enorme. Eh beh, ma qua, qua ci moriamo. Che notte, porca miseria. Adesso probabilmente ci sarà. Oh, cos'è questa cosa? No, 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 è questo l'SCP 038. No, 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 cos'è? Cos'è che fa? Scusate, io non conosco questo l'SCP. Ehi, siamo attenti perché potrebbe essere pericoloso. Cos'è che fa questo SCP, accidenti? Non fa niente, nemmeno se io gli do un pugno. Secondo me cresce tutte le volte che gli do un pugno, giusto? Sì, vedete? No, l'ho ucciso. Oh mio Dio, l'ho ucciso. Ok, forse questo SCP non è stato molto difficile, però adesso sicuramente ci saranno altri SCP. Oh mio Dio, no, che cos'è? No, 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 stai scherzando, stai scherzando, ma che tipo? Ma che schifo è? Che schifo è? No, 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 scusate, 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 no, 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 stai scherzando. Stai scherzando? No, 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 ok, 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 allora siamo a distanza di sicurezza. Quella dovrebbe essere una mucca? Ma che schifezza è? Oh mio Dio, non è possibile. Mio Dio, fa troppo schifo. Schifo Guardate Oh mio dio ci sto osservando Siamo attenti Allora la sfida prevede di uccidere queste SCP Però come caspita facciamo ora Accidenti Dai Non voglio avvicinarmi a questa mucca Io ho la telchida allora Se però questa mucca mi colpisce Non voglio che mi colpisca Voglio colpire da prima io Quindi dobbiamo stare attenti Eccoci 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 Sta arrivando sta arrivando sta arrivando Ok 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 Perfetto perfetto Non mi ha fatto nemmeno un graffio Perfetto Con questa telchida siamo protetti State tranquilli duniziani Siamo protetti con questa telchida Nessuno ci può fare niente Fin quando ce l'avremo Assolutamente nessuno Oh mio dio Oh mio dio Stiamo a distanza di sicurezza però Mi raccomando Eh stiamo anche attenti alla notte Perché chissà quanti altri SCP Ci potranno essere là fuori Oh mio dio No 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 Eccoci lo sapevo Allora Questa cosa è molto inquietante Che cosa dovrebbe essere questo Sembra quasi un Un sarcofago Cos'è Eh mi fa schifo No mi fa schifo Cos'è Che SCP è questo Via No 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 Stiamo attenti È perché No 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 Io ho come un brutto presentimento Come se adesso Arrivassero nuovi SCP Molto pericolosi Ed è ancora notte Questa notte Non passa mai Accidenti Ma perché Scusate ma perché sta nevicando Eh Oh mio dio Che caspita sta succedendo Cos'è che c'è la No 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 e no 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 Io 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 no Io no 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 per favore Per favore Per favore Quella dovrebbe essere la young girl Oh mio dio A parte la pronuncia Va bene allora Andiamo ad ucciderla Però dai Non voglio ucciderla Mi sembra così carina Uffa Non fa niente Vedete Allora facciamo così Cerchiamo di Lasciamola andare Ok È caduta in acqua Non è successo niente Tranquilli Non è successo niente Non voglio Non voglio ucciderla Oh mio dio Spero solo che il pianeta Non se ne accorga Ma accidenti E poi questa tempesta Come caspita faccio Questo dovrebbe essere un SCP E comunque Boh Spero che Non succeda niente Zitto mortale Hai osato Infrangere la sfida Degli SCP Ora la maledizione Si abbatterà Sopra la tua testa Mai far arrabbiare Uno dei pianeti Sovrani Come me O come gli altri pianeti Mai e poi mai Decidere di fare Questo gesto No no Scusate ma che caspita è stata È stato il pianeta Lo sapevo Lo sapevo Era per quell'SCP Accidenti Dovevo ucciderlo Dovevo ucciderlo Ma era crudele Era crudele Accidenti Si deve evolvere Basta È finita qua Io non starò più Ai giochi di questi Pianeti schifosi Adesso Adesso Quando mi chiameranno Cercherò di Aiuto paura Cercherò di ideare Qualche piano Qualche piano Che ci possano portare Non lo so Lontani Da tutte queste Brutte cose Non so Io spero solamente che Spero solamente che Questi pianeti Non siano troppo Malvagi con me Chissà che cosa Mi vogliono fare ora Però penso sia mattino Basta Io me ne vado Non mi interessa Penso di poter andare Basta Addio Ciao Parte il fatto che Sono stato stupido Però Sono risponato Sopra quell'altro pianeta Comunque si Vedete Mattino Il sole sta sorgendo Io non voglio più Avere nulla a che fare Con quel pianeta E nemmeno con gli altri Pianeti Accidenti Sono tutti stranissimi Ma chissà Chissà perché Questi pianeti Vogliono Che io Faccia il loro gioco Chissà che cosa Vogliono in realtà Non lo so Però solo Che non siano Che non mi diano maledizioni Troppo Potenti Insomma Troppo E poi chissà che fine Ha fatto quella Young girl Non so Comunque Io per ora Direi di finire qua L'episodio E Ci vediamo al prossimo Video Dunisiani Che vediamo al prossimo